SPRINA e GANZI oggi è stato un pareggio, un buon pareggio per i GANZI ora devi farla pure con noi comunque ma questo pareggio però rallenta la corsa di SPRINA possiamo arrivare a primi per dire come? i GANZI ci hanno superato quindi quindi calamorosa risvolta peccato e adesso comunque c'è ancora una giornata di campionato spero di arrivare a secondi a me tra l'altro non ci verrà perché appunto settimana prossima è stato un incontro molto difficile con i Marocco quindi diciamo un finale del campionato diciamo da cardiopalma da cancellare diciamo perché sto pareggio comunque per lo spettacolo ne abbiamo girato oggi e abbiamo girato male beh comunque avete pareggio con i GANZI quindi puoi dire qualcosa di male a loro no Anzio puoi pagare con noi vuol dire che hanno girato benissimo che sei modesto lo vuoi? tu cosa vuoi dire invece? come ti è persa la squadra? la mia squadra? oggi tutti nervosi arriviamo da una grandissima partita a scuola pure oggi e andremo un pochettino stanchi un po' nervosi pareggio e rimonta comunque possiamo dire vinciamo 3-1 vinciamo 3-1 poi 3-2 e 3-3 e all'inizio vincevamo noi perché ha beggiato male il prefere Mancino si è montato un gol assoluto perché quello non è l'attacco a giro il mio sono rimasti diciamo questa partita non si doveva non si doveva sbagliare da cancellare completamente i ganzi hanno giocato comunque la loro partita dimostrano sempre di essere dimostrano sempre che con le grandi ci sanno fare tutto quanto solo noi ci abbiamo beggiato hanno vinto con il Marocco con il Marocco hanno vinto con il Marocco hanno vinto bene e i Polifuck invece? i Polifuck hanno vinto oltre 1-4 tripletta qualche cosa? si qualche tripletta un bel po' di punti bonus l'hanno fatti quindi comunque voi penso che abbiate i play-off assicurati quindi la testa è già comunque lì ma com'è? ne passano 4 c'è il 3 passano ai play-off si è scontro diretto come finisce finisce ma voglio fare quella tua intervista tutte queste domande oppure te le fai no no questa è un'intervista poi tutta ah ok va bene allora è Sapirina allora ce la metterete tutte comunque per riprendervi le primate a diventare secondi al vento a occhio a Marocco mentre i Ganzi come ultimeranno questo campionato? noi con i 7-up e sono? eh sono penulti e l'hanno fatto oggi? oggi hanno vinto contro qui? contro... contro... non mi viene in me ah ti dico no e invece ma non troppo ma che hai diventato interrogatorio? ma non troppo hanno vinto ma non troppo hanno vinto con gli Empire FC vabbè andiamo a fare l'altra si vabbè eh dobbiamo fare l'altra si si con me no? ciao ciao alla prossima ciao 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 ciao